signor lupino con due p da castelvetrano che vive da una vita cesena dove si sta bene anzi benissimo benissimo ottimo però c'è questo sempre amore del ritorno a castelvetrano dove le cose purtroppo non vanno troppo bene no però lei ritorna sempre a castelvetrano sì 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 sempre io massimo due mesi che manco vengo a castelvetrano tanto è vero che io essendo ecchi se ferroviere arrivato a castelvetrano non avevo la macchina e mi sono preso una macchina la a cesena e la lascio qui ma lei però ogni volta che ritorno a cesena va col cuore infranto sì perché vedo che le cose rimancono ancora come 40 anni fa non è cambiato niente qualche amico una volta glielo dico sollecito per esempio la strada la strada dello filo c'è quel semaforo c'è una rotonda lì cosa ci vuole una rotonda niente smussare gli angoli per la sicurezza a cesena invece a uffa rotonte proprio e immunizia immunizia niente zero c'è tutto tutto a posto guarda non c'è niente da differenziare fanno la differenziata fanno la differenziata porta a porta e poi dopo c'è certe certi punti che c'erano i cassettone invece qua che succede qua succede che pur pagando perché la prima io la tari si la tari prima di venire giù l'ho pagata in anticipo tre giorni in anticipo perché scadeva il 6 giugno io amo castelvetrano io ci sono nato io castelvetrano sono nel cuore anche se le cose non vanno troppo bene mi dispiace moltissimo le cose non vanno bene però io il mare dove abito io a cesena c'è cesenatico e lo sappiamo 10 km però la triscia è sempre nel suo cuore però la triscia è sempre nel mio cuore sì però diciamo un appello a chi lo dobbiamo fare per un prossimo futuro mi auguro è quello una amministrazione comunale questi giovani che vengono di lavorare essere onesti e capaci tutto quello onesto e capace di fare l'amministratore e fare dei provvedimenti per la collettività per la collettività importante soprattutto la attualmente la polizia perché l'immondizia la cosa più importante e poi dopo curare tutto l'ambiente erbacce di qua senza dare fuoco perché qui avete l'abitudine del fuoco perché ci sono i cespugliatori 10 spugliatori nonostante tutto io amo castelvetrano come dice lei nonostante tutto nonostante tutto io amo castelvetrano mi auguro che castelvetrano mi auguro che venga una buona amministrazione comunale che si interessa della collettività e dell'ambiente ringraziamo al signor lupino benito ex ferroviere e che si ferroviere pensione chiama sempre castelvetrano anche se cesena è più organizzata sì sì anche se infatti c'è sembra da ridere no c'è il sindaco il sindaco di cesena e che lo conosco ma lei non venga a fare un po il sindaco a castelvetrano lui si è messo a ridere noi ci auguriamo che un castelvetrano si possesse un grande sindaco e ormai ormai non ci penso più perché mi sono rassegnato le cose sono no no mi sono rassegnato ma che senso che la cosa deve andare sempre male a castelvetrano veniva nel cuore di fare un po di politica in comune essere eletto così per lavorare per la coppia per il comune candidarsi candidarsi non veniva stavolta però potrebbe essere un prossimo candidato no 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 assolutamente adesso no assolutamente no no allora ci auguriamo nonostante signor loppino stia bene a cesena dove non manca niente tutto funziona tutto funziona ama castelvetrano amatricina amatricina e ci auguriamo che la prossima amministrazione possa dare l'ustro esatto al nostro territorio io quello che dico sempre io è quello è basta copiare non bisogna essere delle idee grandi elementi delle grandi scienziate copiare chi fa meglio di noi vengono a cesena e guardano osservano e sta là guarda com'è io spero io spero che non ci sia bisogno di copiare ma che ci sia che bisogna amministrare con un buon padre di famiglia esatto per stare per bene noi ringraziamo signor loppino con due p 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 con due p